Con Manuel Quintiato, l'anno scorso di questi tempi voi BMC festeggiavate la vittoria di Cadel, quest'anno non è andata benissimo, come mai secondo te, Manuel? Cos'è mancato? Beh, sai, non tutti gli anni sono uguali, senti che magari è un po' un luogo comune e purtroppo quest'anno Cadel, al di là del tour, comunque ha avuto vari intoppi fisici, è stato male già all'attirreno, poi in seguito a Romandia e anche qua l'altro giorno ha avuto un guaio intestinale e su una corsa di tre settimane non si inventa niente, io lo rispetto, sono comunque orgoglioso di aver lavorato per lui perché comunque, insomma, è in classifica ma soprattutto ha dimostrato che anche se non era al massimo ha tenuto duro fino alla fine e al tempo stesso comunque siamo contenti del risultato del giovane, di DJ Van Gardering, maglia bianca e quinto in classifica, prima della crono. Con questi Sky e con Cadel al 100% avrebbe comunque potuto vincere o c'era troppo poco da fare secondo te? Ma secondo me Cadel dell'anno scorso si sarebbe potuto giocare, quantomeno i valori anche della cronometra dell'ultimo giorno dell'anno scorso che è arrivato lui si ponde a Tony Martin, è andato veramente forte, penso che sono in linea con i valori di Wiggins e Froome, penso che sarebbe stata una bella lotta. Lo vedremo l'anno scorso capitano o secondo te sarà già il turno di TJ? No, sicuramente l'anno prossimo Cadel e TJ è stato bravo e quindi avrà sicuramente ancora un po' più considerazione però Cadel sicuramente è ancora in grado di vincere il tour quindi partirà come capitano anche il prossimo anno. Grazie Mario, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie. Grazie.